E questo ho deciso che è il mio ristorante preferito, il mio angolo preferito di Atene, che è enorme, essendo ovviamente una capitale, ma gli scorci veramente caratteristici e non turistici sono ormai rimasti pochi e questo è uno di quelli. Ovviamente si cena sulle scale. In Grecia tutto si fa sulle scale.